Ciao, sono Margherita, ho 16 anni. Ciao, sono Alessandro, ho 15 anni. Ciao, sono Libia, ho 15 anni. Ciao, sono Edoardo, ho 17 anni. Hai mai comprato delle sigarette? Prima di questa mattina no. No, oggi è stata la prima volta. A parte stamattina no. Sì. Te le hanno vendute? Sì, me le hanno vendute in un tabacchi qui nel centro di Ravenna. Sì, senza nessun problema, senza chiedere carte d'identità, niente, neanche guardare un po' in faccia, a capire se ho più di 18 anni o se ne ho meno, nessun problema. Sì, mi hanno guardata un po' male, però alla fine me le hanno vendute comunque. A me le vendono. Ti hanno chiesto i documenti? No, né carte d'identità, né patentino, nulla. Assolutamente no, no. Oggi mi hanno chiesto il documento, ho fatto vedere il patentino che è simile alla patente di guida, la commessa ha controllato l'età e non me le ha date, mentre la seconda volta in un altro tabacchino mi hanno dato senza troppi problemi. Solitamente riesco a comprare le sigarette senza problemi, infatti in alcuni tabacchi non mi chiedono la carta d'identità oppure se me la chiedono io do di solito il patentino. Guardano l'anno di nascita e quindi me le danno tranquillamente. Poi ci sono rari casi, veramente molto pochi, dove il tabaccaio si mette a contare l'età e anche i mesi e quindi di conseguenza non me le danno. Però magari c'è sempre qualcuno che anche sapendo che non sono maggiorenne chiude un occhio. Anche tra di noi capita che c'è sempre quello che ha la faccia da maggiorenne, ma in realtà no. Per esempio ci sono dei miei amici che magari hanno la barba, sono alti, sembrano più grandi di quello che sono, quindi diciamo mandiamo loro che sicuramente non gli chiedono la carta. In conclusione, comprare le sigarette per un minorenne è un gioco da ragazzi.